Con Radio Naberrada vi abbiamo tenuto compagnia, con Michi Poselli che sono io e a questo punto siamo arrivati al momento di uno spettacolo davvero molto bello, molto particolare con dei professionisti della pista da pattinaggio. Io cederei subito il microfono a Luca che ne sa meglio di me e quindi sarà lui a presentare i nostri atleti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.